Prima abruzzese nella città di Teramo per il film Il diritto alla felicità, dove sono state girate alcune scene. Il comune ha sostenuto la produzione del film insegnito del premio La migliore regia al Mare Festival Salina, premio Troisi 2021. Il film narra una storia di amicizia tra generazioni, nazionalità ed esperienze di vite diverse. Una vicenda di scambio culturale tra Libero, Remo Girone, proprietario di una libreria di libri usati, è un giovanissimo immigrato perfettamente integrato e sienne. Il film insegna che nella vita nulla è perduto finché ci sono complicità e affetto. Interpreto questo trovarobe, trovalibri che va a proporre al protagonista del film, che è Remo Girone, chissà che tipo di libri, chissà dove rimediati. È una sorta di rigattiere e slavo e quindi mi sono dovuto preparare per l'accento che devo parlare un pochino libero, io te parlo così. Allora per prepararmi mi sono fatto aiutare da un amico di quelle origini e ci mandavamo i vocali tramite cellulare e lui mi diceva no, 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 non è così, deve parlare un pochino più dritto e da lì è successo di tutto e di più. Però l'esperienza del diritto alla felicità è stata un'occasione per vivere l'Abruzzo e il cinema in Abruzzo in una maniera speciale. Civitella del Tronto, la location principale dove abbiamo girato, è una location meravigliosa, con un affaccio e un panorama stupendo. Il paese è un paese particolare, veramente particolare e poi la bellissima villa comunale di Teramo dove abbiamo girato altre scene e quindi devo dire che siamo soddisfattissimi. Veramente è stata una scelta felice, molto felice. E' il diritto alla felicità perché è un diritto che va conquistato, purtroppo è un diritto ma va conquistato e quindi è chiaro che la conquista della felicità ha diversi e vari percorsi e uno di questi è sicuramente la lettura dei libri che porta alla cultura e quindi porta alla felicità.